Allora, oggi hai visitato Trigoria, qual è la cosa che ti ha colpito di più? È stata veramente una bellissima gita, non so, fino adesso è veramente bello. Ovviamente già vedere da fuori al cancello la scritta S Roma è stata una bella emozione. Il podio dei tre attaccanti, secondo te, del campionato italiano quest'anno? Terzo, Edin Dzeko. Terzo, Edin Dzeko. Secondo? Secondo, Ciro Immobile e primo Cristiano Ronaldo. Fammi un po' un podio dei nuovi acquisti della Roma. Pastore, perché comunque voglio dire. Edin Dzeko, terzo. Sì. Ma Lorenzo, Lorenzo. Visto. Beh, l'hai visto te. Cristiano Ronaldo. Visto. Visto. Prima è sempre Dzeko. Visto. Visto. Sempre, comunque. Sempre, comunque. Grazie mille, signora Alessandra. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.